... Mister, esordio in campionato con questo pareggio molto complicato qui ad Ardore, all'ultimo si rischia di perderlo. Probabilmente come note positive ce ne sono state la principale, credo, la reazione immediata al gol subito che ha dimostrato che questo è un vocale che ha già comunque un carattere molto combattivo. Il carattere è quello dell'allenatore, sanno benissimo dal 10 agosto, io gli ho spiegato come funziona in questa società, in questa squadra, in questo spogliatoio. Funziona che si deve prendere subito il carattere dell'allenatore, l'hanno acquisita subito, sono contento per questo. Poi sul fatto della reazione al gol, direi che prima che loro facessero il gol noi abbiamo avuto due occasioni. Dopo del gol nostro, dell'1-1, abbiamo avuto due occasioni nitide davanti alla porta. Quando vai fuori casa non fai tutti, su quattro occasioni fuori casa, ne fai uno solo e diciamo è difficile poi portare i punti a casa. Siamo stati fortunati nel secondo tempo, bravura del portiere, fortunati sul loro incrocio dei pali, ci vendiamo questo punto e ce lo portiamo a casa. Direi un tempo a testa, un tempo nuovo, un tempo loro è un pareggio giusto. Diciamo un punto in trasferta su un campo molto complicato alla prima è un bicchiere mezzo pieno, possiamo considerarlo così? Ma no, per me non è un bicchiere mezzo pieno perché mi vedete già alla faccia. Io non sono contento perché per me il calcio bisogna giocare sempre per vincere. Anche ti ripeto, quando vai fuori casa e costruisci in questo campo difficile perché giocare qui è molto difficile sapendo il mister Criaco come fa a giocare le sue squadre, sapendo l'anima che metto dentro il campo, una partita maschera l'avete vista e costruire, ti ripeto, quattro palle gol in questo campo e fare solo un gol è lì la mia amarezza che poi porti solo un punto in casa. Quindi ci mettiamo all'opera martedì per capire che quando vai in certi campi e costruisci devi cercare di chiudere al massimo tutte le occasioni che andiamo a creare. Domenica prossima il debutto casalingo si giocherà a Melito, lo sappiamo, quest'anno finché non sarà pronto il Pellicanò. Arriva l'Isola Caporizzuto che oggi è debuttato con una bella vittoria, rotonda. A questo punto direi anche un pochino di lanciare un messaggio al pubblico per venire a sostenere il vocale, nonostante sia a Melito, magari anche la tifoseria di Melito potrebbe darci una mano in più. Io spero che gli amici di Melito ci possano seguire quest'anno, visto che abbiamo riportato l'eccellenza in quel paese, nel paese di Melito. Sono contento di essere lì perché ho tanti amici a Melito, ho i cugini, i parenti, sono tutti di Melito, quindi spero che possano seguirci e far sentire il calore di una squadra in casa, come se fossimo noi la Melitese. Quindi spero che ci possano accompagnare più numerosi possibili. Poi andare ad affrontare oggi l'Isola non è facile, non è facile, oggi ha vinto. Partire sempre con il piede giusto per una squadra fa tanto, fa lavorare sicuramente in settimana con tranquillità. Ho visto che hanno fatto tanti acquisti, acquisti di categoria superiore, ma noi, ti ripeto, chi andiamo ad affrontare non guardiamo sicuramente l'avversario, ma guardiamo dentro casa nostra. Sicuramente in settimana arriverà qualcuno per darci una mano, visto che oggi la coperta era corta. E speriamo che chi arriva si possa mettere subito a disposizione della squadra. Grazie a voi. Presidente, oggi l'ardore fa il suo esordio dopo oltre 30 anni nel campionato principale direttantistico. Sicuramente anche per voi che siete riusciti a riportare questa realtà in pochi anni dall'inesistenza che c'era fino a poco tempo fa, siete riusciti a riportarli in eccellenza. Per voi è anche una sorta di premio, di ricompensa a vedere anche questo tipo di prestazione, questo tipo di calore da parte del pubblico. Sì, no, io innanzitutto ringrazio il pubblico, oggi è stato calorosissimo e ci ha supportato in questa difficile partita. È stata un'ottima gara che abbiamo disputato, una grande reazione, io lo sapevo che la gara di Coppa non facesse testo e abbiamo affrontato un ottimo vocale, siamo due squadre che secondo me possiamo competere, possiamo salvarci, non dico tranquillamente, però abbiamo tutte le carte in regola per poter mantenere la categoria e chissà poi aspirare anche a una posizione di centro classifica. Per quanto riguarda la prestazione dei miei, sono contentissimo perché hanno dato tutto, hanno disputato una grande gara, abbiamo preso un gol molto ingenuamente perché se il nostro difensore avesse fatto fallo al centrocampo, qua parleremo di una vittoria, non di un pareggio. Però aver mosso la classifica è importante, abbiamo avuto tre grandi occasioni, due pali, abbiamo avuto un palo alla fine del primo tempo e poi un incrocio dei pali proprio al 92esimo, più altri due miracoli del portiere del Bocale. Diciamo che punti avremmo meritato di vincere, però aver mosso la classifica è importante perché secondo me questa è una classifica, sarà un campionato molto livellato, molto equilibrato e basta guardare i risultati di oggi per vedere come se si fanno punti anche un punto ogni partita alla fine naturalmente si potrà parlare di altro. Comunque io vorrei ringraziare ancora naturalmente tutti i dirigenti del Bocale, la società Bocale che sempre si contraddistingue per quanto riguarda signorilità e gentilezza. Oggi è stata una bella giornata di sport, l'importante è che il pubblico si sia divertito. Cosa vi aspettate quindi da questa stagione? Anche perché mister Criaco che avete messo alla guida di questa squadra, non è l'autore che solitamente parte per salvarsi però ne ottiene tante di soddisfazioni poi arrivando anche a posizionamenti importanti. A me è dispiaciuto oggi per l'espulsione, per il dedoppio in munizione, l'espulsione che è stata veramente una situazione paradossale perché lui era andato in bagno e l'arbitro praticamente l'ha ritenuto di averle spellere. Poi ora vorrei parlare anche con l'atterno arbitrale per capire quale sia stato il motivo. Ci mancherà proprio nella sua Brancaleone perché l'anno scorso l'anno aveva il Brancaleone quindi domenica non avremo problemi perché lui sarà sempre con noi. Tanto Brancaleone è un campo dove anche attraverso la rete si può comunicare. Però diciamo che Alberto rappresenta per noi, come lo dico sempre in tutte le interviste, un valore aggiunto, un quinto pluris che in quanto top degli allenatori in eccellenza da due anni votato come migliore allenatore. Quindi riteniamo che attorno a lui si possa proseguire il progetto Ardore che nel 2019 è partito con la seconda categoria e in cinque anni siamo arrivati nel giornale di eccellenza calabrese e si possa proseguire con la valorizzazione dei giovani e perché no naturalmente con una posizione abbastanza ragguardevole nel campionato di eccellenza. Grazie a voi, un saluto a tutti. Mister Criaco, è iniziata questa nuova avventura per lei anche con l'Ardore tra l'altro un po' un onore perché dopo più di 30 anni l'Ardore torna in eccellenza ed è compito suo, diciamo, guidarla. È un debutto che si trasforma in un primo punto in questa nuova stagione. Potevano essere tre con quel palo proprio all'ultimo colpito che poteva davvero regalare una gioia alla sua squadra però comunque un inizio per quello che è stata anche la prestazione mi sembra abbastanza soddisfacente. No, assolutamente. Oggi credo che abbiamo fatto una buona prestazione a cospetto di una squadra forte. Non ci dimentichiamo che il Bocale è stato costruito bene. Secondo me è costruito molto bene dal presidente, dal DS allenato da un allenatore che stimo, che rispetto. Per noi, sai, è una formazione molto giovane. Oggi senza nulla togliere a chi ha giocato. Avevamo 4-5 lamenti fuori per via di infortuni però sono felice perché credo che abbiamo condotto la gara per lunghi tratti. Credo che oltre all'ultimo palo, al novantesimo, ne avevamo preso un altro cosbrecino nel primo tempo. Forse ai punti qualcosina in più no. Però ci sta. È normale che i carichi di lavoro si fanno sentire sia per noi che per il Bocale. Abbiamo affrontato una squadra alla pari nostra. Io dico che noi, per quanto riguarda la mia squadra, possiamo solo crescere perché abbiamo costruito una squadra giovane, una squadra costituita da parecchi ragazzi 2002, 2003, 2004. La società mi ha chiesto di fare una salvezza. Io dopo 4 anni passati a Brancaleone sono qui felice di essere allenatore dell'ardore perché so cosa significa per il mio presidente, per i miei dirigenti. Dopo 30 anni a facciarsi nuovamente a un campionato importante come questo. stanno facendo di tutto il presidente insieme ai miei dirigenti stanno facendo di tutto per far sì che poi riusciamo a salvare la squadra. Ma la prestazione dei ragazzi oggi rimane importante. Dobbiamo ripartire da questo e stare sereni perché mancano 29 partite. Noi dobbiamo fare 38-39 punti. Questo è il nostro primo obiettivo e credo che con questa determinazione, con questa grinta, riusciremo a portare a casa la salvezza anche all'ultima giornata. In passato abbiamo visto prima con la Bovalinese poi con il Brancaleone squadre che di fatto erano un po' la rappresentazione di quello che è il lavoro del mister, di quello che è un po' il carattere del mister. Questa squadra è già una chiara rappresentazione di quello che è Alberto Griago oppure ancora ci si deve lavorare un po'? Secondo me oggi sì. Secondo me oggi sì. Sta il fatto pure di 5-6 ammunizioni che abbiamo avuto. Vuol dire che i ragazzi ci tengono a fare bene. Poi per come giochiamo noi uomo contro uomo è normale che poi andiamo a rischiare qualcosina tutto il campo. Ma credimi che oggi esco felice dalla prova dei ragazzi qualsiasi fosse stato il risultato. Perché credo che nell'arco dei 90 minuti abbiamo costruito diverse situazioni dove potevamo fare male. Siamo stati secondo me un po' leggeri negli ultimi 25 metri però sono felice di quello che abbiamo. A tutti ripeto noi abbiamo solo dobbiamo e abbiamo solo da crescere perché è una squadra molto giovane e credo che piano piano riusciremo a ad arrivare a fare i 90 minuti così come abbiamo condotto per 70-75 minuti. Un'ultima battuta più che altro una curiosità perché non abbiamo capito bene cos'è successo con l'arbitro. L'abbiamo vista vicino agli spogliatoi poi rientrava e è stato espulso. C'era sembrato appunto fosse stato espulso perché si era allontanato. No assolutamente niente di che ho sbagliato io perché sono andato in bagno e a rientro dal bagno sono stato espulso anche se la partita ormai era finita però è giusto così perché credo che per regolamento deve essere così nulla da dire perché secondo me l'arbitraggio è stato un arbitraggio perfetto forse qualche munizione la si poteva risparmiare però nell'arco dei 95 minuti così come sbagliano loro sbaglio io e sbagliano i miei calciatori ti ripeto secondo me oggi c'è stata una grandissima prova dei miei ragazzi mi tengo la prova mi prendo il punto e da martedì ci alleniamo e testa a Branca Leone. Grazie mister. Grazie a voi. Siamo con Davide Arose oggi hai fatto il tuo esordio tra i pali del Bocale è stata una partita davvero difficile si è stato costretto anche a qualche intervento complicato però comunque si parte con un pareggio con un buon risultato su un campo difficile è il modo giusto per iniziare la stagione? Sì ma secondo me la prima partita era molto importante che non perdiamo secondo me in primo tempo abbiamo potuto anche vincere fare più gol secondo me due o tre e in secondo tempo secondo me non eravamo abbastanza tranquilli e abbiamo fatto qualche errore ma fino alla partita abbiamo un punto è importante che non abbiamo preso perso Cosa ti aspetti da questa tua esperienza a Bocale? Tu che sei arrivato da poco hai iniziato da poco di fatto la tua seconda partita la settimana scorsa eri in panchina oggi la prima da titolare e tu che mi dicevi qualche giorno fa hai sempre sognato di giocare in Italia a Bocale hai coronato questo tuo sogno comunque Sì io ero dopo la partita adesso sono emozionato perché cosa tu hai detto era un sogno che io gioco in Italia parlo italiano ancora non è così buono ma che parlo gioco e questo ho sentito bello questo sentito bello grazie mille grazie mille ciao